Ciao, benvenuti a questa video-lezione. Oggi parliamo dei saluti e leggiamo insieme un breve dialogo tra tre persone. Cominciamo subito. Per salutare, quando arriviamo, possiamo dire ciao a tutte le ore, la mattina, il pomeriggio o la sera, ma possiamo dire ciao solo quando parliamo con persone che già conosciamo. Oppure possiamo dire salve sempre per tutte le ore, la mattina, il pomeriggio, la sera, ma possiamo dire salve anche a persone che non conosciamo. Solitamente la mattina diciamo buongiorno, nel pomeriggio, quindi dopo le due di pomeriggio possiamo dire buon pomeriggio e dopo le sei di pomeriggio possiamo dire buonasera. Quando andiamo via diciamo arrivederci oppure arrivederla. Arrivederla si usa quando parliamo con persone che non conosciamo. Oppure possiamo dire ciao, oppure a presto o ci vediamo, ci vediamo presto, ci vediamo lunedì prossimo, ci vediamo la settimana prossima. E prima di andare a dormire salutiamo le persone e diciamo buonanotte. Vediamo la presentazione di tre persone. Numero uno. Io mi chiamo Ivana, sono italiana e abito a a Roma. Lavoro come insegnante a scuola. Numero due. Io sono Juan, sono spagnolo di Madrid e vivo in Italia da cinque anni. Lavoro come meccanico in un'officina. Numero tre. Sono Maria, ho ventiquattro anni e vengo da Cuba. Sono arrivata in Italia tre anni fa. Studio la lingua italiana e lavoro come barista. Adesso vediamo il dialogo tra queste tre persone. Ciao, io mi chiamo Ivana. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Juan. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Da dove vieni? Vengo da Madrid. Sono spagnolo. Ah, che bella la Spagna! E che cosa fai in Italia? Lavoro in un'officina meccanica. Ho capito. Ti piace l'Italia? Sì, mi piace molto. La mia città preferita è Roma, la capitale. Sì, hai ragione. Roma è molto bella. Ciao ragazzi, mi presento. Sono Maria e sono cubana. Piacere, io sono Ivana e lui è Juan. Da quanto tempo sei in Italia, Maria? Sono in Italia da tre anni circa. Lavori? Sì, lavoro in un bar al centro di Roma. Che fortuna lavorare al centro di Roma! Sì, ma devo viaggiare tutti i giorni ed è molto stancante. Quanto tempo ci vuole per arrivare? L'autobus ci mette quasi un'ora ad arrivare. Mannaggia, devi avere molta pazienza. Perché non ci scambiamo i numeri di telefono? Certo! Ecco il mio! 321-12-3450. E questo è il mio! 302-928-733. Perfetto! Li salvo in rubrica e vi faccio uno squillo. Sì, dai! Possiamo creare un gruppo! Quelli della fermata! Ragazzi, a proposito! Sta arrivando il mio autobus! Buona giornata! Ciao Ivana, a presto! È stato un piacere conoscerti! Ecco, anche il mio! Buon lavoro, Juan! Ci sentiamo presto! Grazie anche per me! Buona giornata e a presto! Alla prossima, ragazzi! Ciao!